Ben ritrovati amici di QSVS, oggi con me un ospite illustre oserei dire, un ospite veramente speciale perché in mia compagnia oggi c'è Alessio Lisci che è stato un allenatore per ora, è ancora un allenatore, è stato un allenatore di una squadra importantissima in Spagna, ha avviato la sua carriera con un'esperienza molto importante e che oggi abbiamo qui appunto i microfoni di QSVS. Ben ritrovato mister, come stai? Tutto bene, grazie a voi. Tutto bene, tutto bene. Allora partiamo ovviamente dalla tua esperienza spagnola, raccontiamo appunto per chi non conoscesse la tua carriera, inizi in Italia, se non sbaglio appunto nel settore giovanile, giù nel Lazio e poi questo passaggio in Spagna a Levante, come è nato questo passaggio e subito il primo impatto come è stato con un calcio che immagino è differente rispetto a quello italiano? Sì, ho cominciato facendo tirocinio perché ho vinto una borsa di studio con l'università, ho terminato il master di scienze tecniche dell'allenamento e niente, praticamente per varie circostanze mi è saltato il tirocinio che dovevo fare in un'altra società, ho mandato curriculum e diciamo poi sono andato al Levante e niente, l'impatto è stato subito bello perché io sempre ero stato appassionato di calcio spagnolo quindi era un po' la mia idea andare, cioè era un sogno che si poteva compiere e niente, poi da lì ho fatto il tipico, tutta la trafila, quello che fanno i giocatori invece l'ho fatto da allenatore e poi quest'anno, a dicembre dell'anno scorso sono arrivato in prima squadra. È stato un passaggio che ti aspettavi, la società comunque ti ha dato una responsabilità molto grossa, a mio modo di vedere comunque c'erano dei limiti tecnici nella squadra perché comunque il potenziale si è visto, mi ricordo delle partite comunque molto entusiasmanti, la stessa partita con l'Atletico Madrid è stata una partita secondo me molto entusiasmante, ti aspettavi questo passaggio in prima squadra comunque questa responsabilità e ti aspettavi anche che insomma secondo te che chance c'erano appunto per il Levante per la salvezza, era veramente una missione impossibile, potevi fare qualcosina in più, avevi bisogno di qualcosina in più? Allora il passaggio sì me lo aspettavo, non sapevo quando però io sapevo che la società era molta fiducia in me anche perché l'estate prima aveva avuto un'offerta molto importante da un crew, da una società forse la più importante del mondo e il Levante non mi lasciò andare via direttamente il Presidente, comunque avevo una clausola di decisione, non potevo andare via, non mi svincolavano, il Presidente mi disse guarda Alessio rimani perché prima o poi tu sei allenato della prima squadra, non pensavo che fosse una cosa così rapida e niente poi l'anno scorso quando le cose si sono messe un po' male insomma potevo immaginarlo, forse mi aspettavo di prenderla prima quando è stato il primo cambio Ok Perché magari sì c'era più margine per lavorare, quando l'ho presa purtroppo già la situazione era molto complicata, poi vedendo la soglia salvezza che alla fine è stata 39 punti, con 8 al giro in andata era impossibile, veramente impossibile Noi da quando l'ho presa io siamo arrivati 6 punti sopra la zona salvezza, se guardiamo solo il giro in ritorno abbiamo fatto numeri da Europa League Poi se guardiamo da quando abbiamo trovato la vericomateria che sta un po' il cambio di cipro quando abbiamo un po' come funzionare bene sono numeri da Champions per cui più era quasi impossibile, noi abbiamo fatto 35 punti e in Italia la serenitana se non sbaglio si è salvata con 31 Quindi alla fine poi ci sono tanti fattori, vedendo i numeri 39 sì, in intente per la matematica era fattibile però avremmo dovuto fare veramente numeri da scudetto Io mi ricordo solo due allenatori italiani recentemente che hanno vinto al Vand, hanno vinto con l'Atletico Madrid, parlo di Mr. Lisci, Mr. Pioli insomma C'è qualche paragone, ti ispira questo Milan, ti piace insomma vedendo anche un occhio sul calcio italiano, come si vince poi con l'Atletico Madrid di Simeone? Sì sì, il Milan, a me Pioli è un allenatore che piace perché poi soprattutto mi è piaciuta la sua evoluzione durante gli anni perché è stato, ha fatto molta gavetta diciamo se la vogliamo chiamare così E poi però tutti gli anni ha messo un mattoncino più, è sempre stato, sempre cercato di evolversi, adesso è un allenatore molto molto moderno Tanto Ancelotti come anche Inzaghi penso sia un gran allenatore per non fare differenze tra le due milanese Per il resto poi nel Vand devi vincere o cercando di fare la tua partita, se vai lì vai a subire, a sperare in qualche miracolo, loro quando cominciano a metterti dietro soprattutto quando attaccano sotto la loro tiposeria è veramente complicato quindi devi cercare di tenermi più lontano possibile dall'area perché poi sono molto fisici quindi quando cominciano a giocare diretto, a fare cross è veramente difficile Come si prepara una partita con una grande squadra, penso appunto quella con l'Atletico Madrid ma insomma nei vissuti di grandi partite Quanti giorni prima? Qual è la cosa più importante? Non so, la tattica, si parla sempre dell'importanza del match analyst adesso nelle figure appunto legate all'allenatore È più una questione di testa, di gamba? Come si prepara proprio? Quali sono gli step? È una questione un po' di tutto, la partita dell'Atletico Madrid è stata particolarmente difficile perché avevamo solo due allenamenti perché venivamo da giocare il giovedì se non ricordo male, il venerdì, non mi ricordo, c'è stato un problema con una partita quindi abbiamo fatto due allenamenti e abbiamo giocato, l'abbiamo vista un po' molto sulla lavagna l'abbiamo trovata un po' in campo in questi allenamenti in modo evidentemente light perché non possiamo alzare i carichi ma sono due giornate e a livello mentale evidentemente è anche importante, sono partite che devi gestire a tutti i livelli anche perché venivamo da un momento difficile, tutti ci danno per morti, è stato il giorno che siamo un po' risuscitati quindi si va preparata molto a 360 gradi e poi l'unico vantaggio che c'è in quelle partite è che appunto non hai nulla da perdere perché tutti danno per scontato che vai là, perdi 2-3-0 e torni a casa invece quando poi stai lì, vedi che stai in partita che la vuoi fare, insomma ti entra molta fiducia e poi il resto viene da sé. L'aspetto più difficile nella tua esperienza spagnola che insomma hai detto cavolo qua devo lavorare tanto comunque c'è da migliorarsi, che magari anche dall'Italia appare in una maniera differente perché magari in Italia dai per scontato determinate cose invece poi in Spagna è tutt'altra storia dove hai avuto appunto l'aspetto più difficile della tua esperienza spagnola? Una domanda complicata, non ti saprei dire perché è andato quasi sempre tutto bene evidentemente l'anno scorso era, gli aspetti difficili c'erano tantissimi perché poi può immaginare una squadra che ha fatto, io l'ho presa che veniva da 21 partite senza vincere mi ha fatto il record storico della Liga di partite senza vincere per cui problemi ce n'erano, c'erano molti soprattutto a livello simmentale evidentemente alliello tattico non lo nascondo perché è così però poi non mi piace parlare, poi mi sembra male che uno parla male dei miei predecessori quando io realmente con l'allenatore che ha cominciato soprattutto c'è una grandissima relazione, penso sia un grande allenatore era stato tre anni in Levante facendo grandi risultati poi tutti i cili determinano per cui c'è un momento che succede e qualcosa non va però a livello mentale evidentemente dopo 20 partite senza vincere mai è complicato quando vai sotto, quando stai davanti diventi 1-0 c'è successo contro l'Espagnolo, contro il Valencia, ti entra la paura di vincere quando stai sotto pensi non vinciamo nemmeno stavolta quindi a livello mentale soprattutto è stato molto molto complicato Come lavori in quel caso? Come si fa a sbloccare la testa dei giocatori? Quello che abbiamo cercato di fare è stato, anche con l'aiuto evidentemente dello psicologo che è un psicologo del Levante, non parlare dell'aspetto mentale cioè orientarci sul tattico, sul calcio, facendogli vedere che se facciamo le cose bene la conseguenza è la vincere la partita non pensare nel futuro, se ci segnano un gol non ce la facciamo continuare, se stiamo davanti cercare di fare il secondo quindi era un po' l'idea era quella infatti poi è andata bene però c'è stato un processo le prime, tanto con l'Espagnolo come con il Valencia si è visto benissimo sono state partite ultra dominate che poi abbiamo perso 4-3 che prima la partita dice è impossibile Sì, il derby me lo ricordo perché insomma seguivo anche particolarmente il Valencia è stata una partita molto intensa molto veramente incredibile è stata poi insomma in Spagna so che è molto sentita come partita lì si va a sentire molto come partita volevo portare un'altra domanda le spagnole arrivano sempre in fase finale delle competizioni europee insomma negli ultimi anni soprattutto abbiamo visto un decennio che è stato dominato dalle spagnole poi insomma c'è stato il ritorno anche un po' delle inglesi ma le italiane cosa devono fare? Cosa manca le italiane? Te che stai vedendo anche un po' il calcio italiano più nello specifico adesso rispetto a quando eri in Spagna dove percepisci questa grande differenza? È più un aspetto tecnico, tattico in Spagna sono tra virgolette più umili quindi si pensa veramente di più a giocare dove è la differenza maggiore? Io credo che la differenza sta prima di tutto nella consapevolezza attualmente cioè le squadre spagnole vedono che arrivano in fondo non hanno paura di nessuno quando fanno le partite giocano provano a vincere c'è sempre una mentalità vincente in Italia forse negli ultimi anni con gli ultimi risultati abbiamo perso un po' questa consapevolezza che possiamo arrivare in fondo speriamo insomma che la Roma è riuscita a vincere abbiamo vinto gli europei ci cominciamo un po' a rimettere in marcia pensiamo, molte volte anche nell'intervista a fine partita c'è molto questa mentalità di è ma l'avversario era troppo più forte non si poteva non è una mentalità giusta secondo me poi con tutto il rispetto evidentemente poi io non ho allenato in Europa per cui non posso poi parlare troppo di questa situazione la vedo da esterno poi da esterno non sai mai bene le cose al 100% però io penso che la consapevolezza è molto importante vedi il Siviglia vince Coppa, vince Coppa, vince Coppa e vincere aiuta a vincere per cui ti crei questa il Real Madrid quello che fa in Champions League è incredibile è davvero incredibile il Barcellona ultimamente che ha perso un po' questa consapevolezza non riesce più a essere così decisivo nelle coppe europee è vero stanno subendo un processo di cambiamento sei partito dai settori giovanili anche lì in Spagna insomma hai avuto delle esperienze con dei ragazzi più giovani non quindi legati alla prima squadra comunque degli over 23, 24, 25 hai avuto delle esperienze giovanili anche in Italia come cresce un ragazzo a livello calcistico in Italia, in Spagna e dove pensi insomma che si debba lavorare veramente tanto per creare dei calciatori professionisti indipendentemente da Serie A, Serie B, Liga, Ligan o Premier League? sì guarda io credo che la differenza fondamentale che c'è nei settori giovanili tra Italia e Spagna sono le seconde squadre ah ok mi sembra assurdo sinceramente che in Italia non ci siano le seconde squadre è una follia c'è solo la Juventus so il perché perché non hanno spiegato che a livello economico e a livello di gestione di squadra per le professionisti che fanno una seconda squadra è quasi impossibile non ci sono gli aiuti che ci sono in Spagna ma nemmeno aiuti cioè sono proprio svantaggiate rispetto alle altre squadre che competono nella stessa categoria e la seconda squadra è fondamentale fondamentale perché vedete la Juve che da quando la seconda squadra adesso c'è fagioli, miretti che si stanno affacciando per tutta la possibilità di giocare stesso sulle esatto giochi in Serie C senza problemi e quando la prima squadra ha bisogno di te sali, giochi e discendi è un vantaggio grande perché poi lo sappiamo quando ti mandano in prestito in Serie C in Serie B è complicato da una primavera perché tu comunque in primavera per molto quelli il campionato di primavera è di altissimo livello adesso c'è la primavera uno su tutti i giocatori fortissimi però non giochi contro uomini giochi sempre contro giocatori inesperti della tua età passare a giocare in un campionato di Serie C ti forma mille volte di più di un campionato di primavera cioè non c'è paragone per cui un campionato di Serie B nemmeno te lo dico quindi se tu vai in prestito l'allenatore che ti riceve in prestito dice ok questo è da 19 anni io mi devo salvare molte volte non hanno il coraggio di farti giocare quindi ti fai un anno di prestito non giochi mai torni da un anno non hai giocato mai entri nel circolo di non giocare mai o prima che ritorni alla tua squadra d'origine puoi fare 4-5 anni e ritorni nella tua squadra d'origine con 26-27 anni e non sei più giovane quindi la seconda squadra secondo me io l'ho visto perché l'ho allenata lo so è una risorsa incredibile dove vedi che sta andando la classe degli allenatori in questo momento cioè c'è stato un cambiamento da quando ti sei approcciato al mondo del calcio è vero che sei molto giovane però vedi già un cambiamento si va sempre più su una parte tattica ognuno cerca di portare le proprie idee e poi ti chiedi ovviamente se c'è qualche allenatore che ti piace particolarmente sai si parla tanto non so di maestri come Loco Bielsa si parla insomma anche di risultatisti perché molti si basavano non solo sui risultatisti quindi prendo Allegri tralasciando l'ultimo periodo dove a chi ti ispiri dove sta andando la classe degli allenatori io credo che il calcio come tutto si è molto globalizzato ultimamente nel senso che poi alla fine con i loro dettagli però se vediamo i migliori allenatori d'Europa quasi tutti giocano un calcio simile non uguale ma simile se vediamo penso a Guardiola e Klopp vediamo tutti gli scontri che hanno fatto uno contro l'altro da quando erano in Germania l'evoluzione che hanno avuto entrambi e la importanza che ha avuto uno per l'altro per la sua evoluzione è incredibile se le sfide Guardiola e Klopp Borussia Bayern le vedi adesso non pensi che le due squadre sono allenate dagli stessi allenatori quindi il futuro un po' è quello lì vanno tutti in quella direzione gli allenatori top attualmente quasi tutti diciamo che mi ispirano evidentemente Guardiola e Klopp penso che ispirino a qualsiasi persona mi piacciono tanto i risultatisti come gli esteti diciamo Guardiola Klopp anche credo sia un ottimo allenatore anche se adesso purtroppo è stato generato però diciamo che il calcio è quello non possiamo farci nulla Bielsa evidentemente è un grandissimo allenatore ma per esempio piace molto anche Juric che adesso sta che mi intende a scuola a Gasperini anche Gasperini è un grandissimo allenatore io cerco di ispirarmi un po' a tutti perché poi quanto più quanto più tipo di allenatori differenti vedi evidentemente poi vuoi fare un mix tra le varie situazioni e avere più risorse non mi ispiravo in particolare perché sarebbe è un po' limitativo i copia e incolla non funzionano mai ho visto a proposito del famoso copiare perché è vero il famoso schema che proveniva dalla Premier calcio d'inizio l'abbiamo visto praticamente ovunque con il Paris Saint Germain che l'ha applicato bene in Premier l'hanno applicato veramente quali su tutte le squadre è arrivato in Italia l'ha provato la Juve se non sbaglio non è andata a buon fine però vedo che insomma si butta sempre un occhio a livello internazionale sugli schemi come si lavora cioè ti affidi molto tu al tuo staff cerchi di portare tu delle idee creative come funziona sugli schemi si va a cercare anche qualcosa all'estero si ruba qualcosina guarda noi dentro dello staff abbiamo una parte dello staff che si occupa di vedere tutti i fine settimana i gol sul calcio piazzato ok in più quando vediamo che c'è una squadra che fa molti i gol sul calcio piazzato la studiamo direttamente quindi diciamo abbiamo un archivio di giocate sul calcio piazzato che è infinito la giocata questa famosissima di cui parli che è nata dal Bormut Bormut noi l'abbiamo vista la prima volta col Bormut l'abbiamo vista subito il gol cioè la prima volta che ha fatto il Bormut non ha segnato è vero e poi da lì l'hanno fatta tutti noi abbiamo sempre pensato che fosse un po' inflazionata tra virgolette già perché diciamo ormai la fanno tutti è impossibile e continua a riuscire invece ho visto che anche quest'anno ormai sono già un paio di anni che è uscita e niente continua a funzionare penso che è una giocata che rimarrà in una storia perché non si è mai visto un calcio inizio con tanti gol però sì i calci calzati per me sono fondamentali e quindi diamo un grandissimo valore è uno schema alla FIFA mettiamola così quando la FIFA segnavi subito con il calcio d'inizio sulla questione degli schemi c'è questo timore perché me la pongo sempre tra me e me questa domanda questo timore che si vada un po' verso il football quindi tantissimi schemi io mi ricordo appunto Brady che giocava con praticamente tutti gli schemi sul polso andava a vedersi tutti gli schemi c'è questa paura o io preferirei che rimanessi invece così da giochisti si lascia un po' spazio al talento quindi alla giocata individuale sono sui 30 metri mi viene da calciare calcio sì no quello bisogna trovare il giusto equilibrio comunque poi molte volte gli schemi sono importantissimi sui calci piazzati che quello evidentemente va non puoi lasciare spazio al talento più che altro perché sennò vai in ritardo rispetto a ciò che dipende se tu nel calcio piazzato hai il vantaggio di sapere già i undici che vanno a fare e quel vantaggio è sull'avversario se tu improvvisi su un calcio piazzato vai in perdi questo vantaggio quindi sui calci piazzati bisogna lasciarlo molto chiuso molto chiusa la situazione ci sono giocatori miei che si appuntavano e giocate sul braccio con la penna che è normale alla fine se non lo ricordi non c'è nulla di male come la scuola esatto poi nel gioco nel gioco di movimento evidentemente devi avere qualche qualche automatismo che è importante sempre però poi dentro dell'automatismo i giocatori donai la libertà di creare ciò che sentono in quel momento perché poi il talento è fondamentale quello che fa la differenza quando si esce dallo schema poi molte volte quando trovi il gol mi racconti una tua giornata tipo a Valencia e soprattutto quante informazioni riceve un allenatore nel 2022 perché mi immagino che adesso c'è lo staff che si occupa dell'analisi della partita il preparatore poi c'è lo psicologo poi c'è chi ti fa gli schemi poi c'è anche da andare a sentire il nutrizionista se i ragazzi stanno mangiando bene la palestra cioè sei il catalizzatore di tutto e devi dare anche un peso a ciascuna fazione com'era la tua giornata tipo? tu arrivavi al centro sportivo e ti bombardavano di domande? sì poi tra l'altro a questo devi aggiungere tutti gli obblighi che hai con le televisioni che in qualche volta da fuori non si vedono ma levano una parte importantissima della giornata noi arriviamo noi dieci e mezza stavamo cioè dieci e mezza cominciava l'allenamento quindi in Spagna si inizia con calma ricordiamolo in Spagna con calma evidentemente noi ci vediamo alle otto facciamo colazione e otto e mezza cominciamo la riunione due ore e mezza prima spiega un po' la sessione i ruoli allo staff e niente poi io andavo un po' in giro a parlare con i medici cioè c'era sempre la riunione con lo staff prima con lo staff medico per sapere i giocatori che stanno bene male che stavano in dubbio poi quando arriviamo i giocatori insomma arriviamo i dubbi quindi andavo nell'area medica parlavo i medici parlavo i giocatori insomma tipiche cose da mattinata per vedere che tutto va bene nel frattempo si montava al campo poi niente facciamo allenamento post allenamento facciamo una riunione dove vediamo la sessione di allenamento appena terminata parlavo un po' il feedback della sessione dopo di che c'era il pranzo pranzavamo e poi si cominciava a lavorare di nuovo fino poi alle cominci a lavorare vedi un po' l'avversario la sessione del giorno dopo il lavoro ce n'è per i giocatori degli avversari individuali i tuoi le riunioni individuali con i giocatori il lavoro ce n'è per dieci anni e niente poi quando sono verso le otto di sera otto e mezzo è quando prendi la macchina e torni a casa diciamo che la giornata più o meno sono dodici ore la giornata non è si chiude con una cerveza rusafa dai mettiamola mettiamola così che per chi non conoscesse la zona di Valencia è una zona molto frequentata per i locali serali e mister il rapporto che tu avevi con i singoli calciatori nel senso secondo te l'allenatore si deve interfacciare in maniera formale va bene il messaggio whatsapp l'ha chiamata anche fuori dal contesto lavorativo e poi ovviamente ti chiedo subito dopo mi devi nominare cinque calciatori che dal vivo ti hanno impressionato hanno detto questi sono sono mostruosi allora si va bene va bene tutto con i giocatori alla fine dobbiamo sempre capire che stiamo nel 2022 quasi 23 il whatsapp ormai è un è una parte della vita ma anche dei giocatori i giocatori funzionano benissimo con il whatsapp per cui evidentemente avevamo un gruppo di whatsapp con la squadra per le informazioni rapide tu metti un messaggio lì e in un secondo c'è tutta la squadra per cui è una cosa che va usata non gli vedo nessun problema poi a livello comunicativo evidentemente ci sono momenti dove devi essere più formale momenti dove essere più informale io avevo il vantaggio e lo svantaggio di avere praticamente l'età loro anzi eh ok sono data della mia stessa è vero e quindi c'era molta vicinanza lì capivo empatizzavo molto con loro le pressioni che possono avere le situazioni che possono avere in lo familiare quindi io diciamo ho avuto un rapporto molto buono con la squadra che si è visto perché poi fino all'ultima giornata la squadra è andata benissimo è performato io credo che c'è bisogno tanto puoi essere formale puoi essere informale l'importante è che sei che sei sincero e soprattutto che spieghi le cose se il giocatore gli spieghi le cose la capisce poi può essere più o meno d'accordo con te però vede che insomma c'è un ragionamento dietro e tu prendi le tue decisioni perché poi la rosa era molto ampia e giocavano 11 come sempre quindi bisogna prendere le decisioni sui calciatori chi ti è piaciuto di più i cinque giocatori evidentemente se buttiamo in mezzo il Real Madrid abbiamo un problema perché magari non dovete uscire il Real Madrid però evidentemente Denisius Benzema Modric fuori categoria sono cose sono altre cose non entrano poco nel calcio ma Real Madrid Camavinga Valverde cross c'è troppo c'è troppo a real Madrid se leviamo il Real Madrid evidentemente ci sono giocatori Silva è un giocatore è pazzesco Gerard Moreno del bigliareare è un giocatore che fa giocare la squadra i due baby della Barcellona ce n'è uno che a me fa impazzire sono troppo di parte io su Gavi però ci si parla tanto di Pedri e Gavi io preferisco Gavi poi è ovvio che Pedri insomma è venuto fuori prima e piace di più ma questi due ragazzi sono due due giocatori fortissimi io penso che Gavi è fortissimo però Pedri è un giocatore che è destinato a segnare la storia del calcio ma ci stiamo scordando perché ha avuto infortuni ma Anzu Fati è una cosa impressionante impressionante per cui se gli infortuni lo rispettano è un giocatore il Barcellona attualmente ha una rosa che sta tra le quattro migliori del mondo sicuramente Della tua squadra invece c'è un giocatore che insomma ti ha impressionato veramente tanto che dici cavolo questo è veramente un talento veramente un fenomeno Guarda io li conoscevo abbastanza poi evidentemente quando gli alleni forse è difficile far nomi perché poi sembra brutto una preferenza evidentemente se vediamo giocatori di un profilo un po' più giovane che evidentemente Jorge De Frutos lo sapevo veramente tanto a livello personale perché è nato per competere per vincere è un ragazzo super disponibile a qualsiasi situazione poi ha un talento che è incredibile veramente tipico giocatore da strada per quello è così forte è venuto fuori bene con la tecnica diciamo esattamente perché lui era di un paese nella Spagna vuota come la chiamano in Castiglia la Mancia con le zone lì è vero non c'era una squadra lì lui sempre ha giocato fino a 15 anni credo ha giocato con due amici sotto casa quella è stata la sua formazione adesso sta a essere un giocatore infortunio suo evidentemente l'anno scorso l'abbiamo pagato tantissimo è vero adesso un professionista ultime due domande mister innanzitutto cosa ti aspetti adesso nel senso preferiresti ripartire dalla Spagna o con un'altra esperienza all'estero se sei una persona che comunque dipendentemente dal lavoro sei propenso ad andare a vivere delle esperienze all'estero o c'è il pensiero di restare in Italia no io sono sono aperto a tutto fortunatamente parlo parlo anche inglese per cui ho anche questa questa possibilità sono sono aperto a quello che cerca un progetto interessante a lungo termine sempre parlando di calcio sapendo che il lungo termine non esiste però diciamo un progetto almeno di partenza le cose siano fatte bene e cercare di non cominciare con un handicap così grande come l'anno scorso mi sarebbe piaciuto cominciare facendo un precampionato perché c'è più tempo di lavorare si può dare più un'impronta purtroppo ci sono stati molti movimenti sono stato vicino a molte situazioni poi all'ultimo momento non sono andate in porto per cui niente aspettiamo senza nessuna senza nessuna fretta e vediamo la miglior situazione devo chiederti come finisce secondo te sia la Serie A che la Liga insomma vedi un Milan decisamente troppo più forte delle altre una Juve insomma che può invece recuperare piena di campioni un Inter che dopo la delusione dell'anno scorso può invece confermarsi riprendersi la leadership d'Italia ma io credo che quest'anno sarà un campionato molto molto equilibrato perché comunque ancora il Milan sta seguendo un po' il flow dell'anno scorso quindi va bene funziona questa squadra allegra diciamo se possiamo dare un nome per definirla e l'Inter e la Juve credo che ancora non si sono trovate la Juve ha cambiato molto l'Inter credo che l'assenza di Perisic la perdita di Perisic di Perisic e Aghimi negli ultimi due anni ha un po' ha limitato un po' questa quella difesa a tre no? perché giocando la difesa a tre gli esterni sono fondamentali e probabilmente cambiare ricambiare Perisic e Aghimi è veramente difficile per il mondo che si voglia perché anzi Aghimi penso sia impossibile perché credo sia più forte del mondo nel suo ruolo quindi però l'Inter alla fine si ritroverà perché comunque è piena di grandi campioni e ritornerà su e la Juve io anche credo che quando recupera Bobbati Maria se riesce evidentemente poi risponderà Allegri non è che adesso da un giorno all'altro possa essere diventato un allenatore che non sa più di calcio quindi la Juve anche Allegri troverà la quadra della squadra e ritirerà su Roma e Lazio non sappiamo dove possono arrivare perché hanno grandi allenatori e evidentemente hanno buone rose ma non sono probabilmente a livello delle top però possono insidiare il Napoli e poi io penso che dobbiamo considerare che c'è il mondiale e il mondiale hai una preferita? Hai una tua favorita se no? Perché insomma tutti quotano l'argentina io però la Francia e la Spagna non la sottovaluto no 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 il mondiale è un'incogno l'argentina penso che in tutti i mondiali almeno da quando sono nato in tutti i mondiali l'argentina è la favorita perché è sempre il gioco dei più forti di tutti tu la prendi al FIFA e la vinco tutto poi però il calcio è complicato è difficile mi farebbe piacere che vincesse l'argentina perché Scaloni lo conosco ho fatto il corso allenatore con lui quindi sarei contento veramente che si vincesse l'argentina però poi insomma viviamo lo aspettiamo viviamo c'è un certo c'è un certo Messi che si toglierebbe una soddisfazione non da poco poi quindi insomma sarebbe la cendeggina sulla sua carriera ecco gli allenatori di club invece per chiudere non saranno molto contenti di questa parentesi a meno di insomma una squadra che rimane praticamente al completo penso per esempio alla Taranta esatto io penso che Atalanta e anche il Napoli possono essere due outsider chiamo Napoli outsider con tutto il rispetto penso che è uno squadrone con un allenatore fortissimo però nella storia della Serie A diciamo che si può chiamare un outsider perché poi non parte come favorita però Atalanta e Napoli quest'anno se c'è un anno che possono arrivare in fondo veramente è questo quindi tra le squadre dico che c'è molto equilibrio quest'anno perché con il mondiale in mezzo ci può essere qualche outsider che si inserisca e riesca arrivare fino in fondo perché dopo il mondiale non sappiamo come reagiranno riparte un nuovo campionato quindi magari la stanchezza a fin anno si può sentire e le squadre che hanno meno giocatori che hanno fatto il mondiale possono avere quel plus che le faccia arrivare in fondo mister ti auguro ovviamente un grosso in bocca al lupo mi auguro insomma che tu possa trovare veramente una squadra super competitiva anche perché davvero con Levante personalmente a me hai fatto entusiasmare ma anche l'ambiente l'ho visto era molto rivitalizzato insomma anche in Italia si è riusciti a parlare a dare un po' di visibilità mediatica a quello che si è riuscito a fare grazie veramente per essere stato qui con noi con gli amici di QSVS e vediamo se riusciremo a ritrovarci insomma con una squadra alla guida o comunque con qualche trofeo alle spalle addirittura mister quando volete grazie mille a voi grazie ciao a tutti gli amici di QSVS prestissimo